Si chiama La Bella Piazza ed è il primo progetto italiano che parte da Napoli di co-gestione degli spazi pubblici urbani. Il Comune di Napoli, Fondazione con il Sud e altre circa 40 forze del territorio in campo per la rigenerazione partecipata dell'area nord di Piazza Garibaldi, grazie alla collaborazione e poi la gestione di soggetti pubblici e privati. Ascoltiamo il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il prefetto Michele Di Bari. Io credo che questo può essere veramente un modo unico per gestire situazioni complesse, sono molto fiducioso che funzionerà bene e poi la estenderemo anche ad altre parti della città, solamente con una collaborazione tra il pubblico e il privato sociale si riesce a dare una risposta alla complessità delle grandi città e anche dei luoghi più difficili. Ci saranno alcune ulteriori interlocuzioni con il Comune ma la strada è tracciata e c'è una grande sensibilità su questo tema ma c'è anche una grande sensibilità da parte della cittadinanza che avverte che qui c'è stato davvero un cambiamento. Il progetto prevede la cura e manutenzione dei luoghi con l'affido all'ATS degli Otto Chioschi che insistono nella piazza per realizzare iniziative sociali e commerciali, un servizio giornaliero di spazzamento e svuotamento cestini, la manutenzione del verde e delle aree giochi e sportive, l'istituzione di una portineria di quartiere che funzionerà come luogo di prossimità. Ascoltiamo Stefano Consiglio, presidente e fondazione con il Sud. Il gruppo dei non sfiduciati, rassegnati al peggio e ai problemi, provano a mettersi insieme perché qui non si affida la piazza alle associazioni. Qui le associazioni insieme agli enti locali, agli albergatori, ai commercianti, agli imprenditori, ai semplici cittadini, provano a ridare ad uno spazio che in questo momento è abbandonato, non curato, uno spazio presidiato, pulito.